...chettina e fa la solida roba, no? Oggi, per quanto riguarda me, ho guardato come l'hai presentato, sei stato sfortunato perché per me quel ragazzo lì è troppo, è un fenomeno esagerato. Se fosse stato un po' meno avrei detto te, ma lui per me è pazzesco. Eh sì, non...